Ciao a tutti i grandissimi, sono qui da Piero Azzali a Mantua, Gielleria Azzali, perché? Perché come sapete tutti gli anni a me viene un prurito, mi viene una voglia di diver abbastanza importante Arriva il sole, come spunta il sole, io sono prontissimo Quest'anno, giustamente il Piero mi ha proposto una bella selezione di mido marchio che io non ho mai posseduto e secondo me è arrivato anche il momento Anche perché funziona bene, devo dire Funzionano benissimo, sono secondo me molto belli, quindi ho detto Sono arrivato a un poker, quindi vorrei scegliere uno di questi quattro Qui abbiamo tipologie assolutamente diverse, perché abbiamo il GMT Abbiamo le ore del mondo, abbiamo questo diverone molto voloso Prodotto, mi dicevi, per edizione limitata Solo per l'Italia Solo per l'Italia, molto bello performante, quindi un orologio molto strong E poi dopo abbiamo il grande classico, l'Ocean Starry, quel blu Perché il blu mi piaci tu, si sa Un po' sfumato E secondo me sono quattro proposte veramente ottime Uno di questi verrà a casa con me Non svegliamo quale per il momento Non svegliamo quale per il momento Forse a fine video potrete, ma non lo so Ci sarà comunque una luna di mistero Fatto sta che la scelta che deciderò di fare Poi la guarderemo molto bene, la andremo ad esaminare Perché siccome è un marchio per me nuovo anche da possedere Vorrei insomma metterlo un pochino sotto i raggi X E dirvi quelle che sono soprattutto le mie impressioni Magari dopo un paio di settimane Che me lo sto godendo al polso Intanto apprezzo tantissimo di Mido No, che diano due cinturini Che secondo me è sempre tanta roba Perché sapete che a me piace giocare tra bracciale e cinturini Quindi insomma avete la vostra gomma Avete bracciale, avete inato Per me è tanta roba Una bella dotazione completa Diciamola anche un prezzo molto molto onesto Devo dire sì Veramente bravissimi da quel punto di vista lì Qualità svizzera è un rapporto veramente qualità prezzo Non dico imbattibile ma Infatti tu comunque E tanto te lo sei messo Io ancora no ma arriviamo alla fine Che c'è un attimo Certo Sì che andiamo di pari passi E te ormai Eh beh è giusto così Benissimo ragazzi Adesso bando alle cianci Io ve li faccio vedere uno per uno Poi ci troviamo per le conclusioni E apriremo anche una lotteria a questo punto Vediamo se indovinano quale prendo Il totomido Il totomido Vediamo se indovinano quale porto via E un paio di giorni dopo ovviamente vi svenerò tutto qua Benissimo ragazzi Vi faccio vedere queste bombe a mano Vai che si vuole Ed eccoci qua grandissimi Partiamo subito Intanto guardate che bella scatola Doppio cinturino Sia gomma che in metallo Installato sull'orologio Abbiamo il fantastico Mido Ocean Star Versione Tribute Con questo fantastico quadrante Degrade in blu Orologio veramente straordinario Dal listino di 1170 euro 20 bar di impermeabilità Diametro 40.5x13.4 Ansa 21 Movimento al Mido 80 80 ore di riserva di carica Presenza della data Ad ore 3 Vetro zaffero che offre una fantastica distorsione Cassa interamente lucida Lucida Ovviamente presente lo sgancio rapido Per poter giocare Con bracciale e cinturino Come meglio credete Adesso ve lo voglio far vedere un po' meglio nel dettaglio Guardate qui che bello il quadrante Che va a sfumare La scritta Ocean Star Mido Automatic Molto interessante Come vi dicevo La distorsione Del vetro Per un oggetto Secondo me Molto bello e ben realizzato Spallette Proteggi Corona Abbondanti Orologio perfetto Per il mare Ve lo faccio vedere indossato Sul mio polso 18.5x19 Devo dire che sta benissimo 40 mm e mezzo Che vestono molto molto bene Lactula contenuto Come potete vedere Le anse non sono lunghissime Quindi adatto sostanzialmente Ad ogni tipo di polso Orologio molto bello Ghiera con anello In alluminio Colore blu Sempre Continuiamo adesso Con la versione GMT Quindi abbiamo L'Ocean Star GMT Anche qui dotazione Di tutto rispetto Abbiamo un nato Già compreso In confezione Qui l'orologio Che si presenta In questo blu Fantastico Sfera GMT Rossa Cassa interamente Satinata Con bisello lucido Che va a dividere Le superfici Bracciale Davvero Stratosferico E fatto benissimo Molto solido Interamente satinato Lucido solo Nella parte laterale Un'estensione Veramente fantastica Per poterlo allargare Clasp di presenza Molto molto solida E ben realizzata Devo dire Un gran bel lavoro Mi fa molto piacere Vedere un'estensione Del genere Diametro Cassa Sempre 40.5 Per 13.4 Ansa Anche qui Da 21 20 bar Di resistenza La pressione Marina 1440 euro Per questo fantastico GMT Movimento Sembra il Mido 80 con 80 ore Di riserva di carica Funzione data E GMT Anche in questo Caso Indici applicati Veramente Un gran bel lavoro Da parte di Mido Bravissimo Orologio molto bello Scritta Mido Applicata Così come gli indici Ora ve lo faccio vedere Nel dettaglio Anche qui troviamo Un fantastico Zaffero bombato Che dà Un'ottima Distorsione Un effetto vintage A me Molto molto gradito Non abbiamo più Le spallette Proteggi Corona Ma la cassa Come vedete Da lucida E passata Satinata E devo dire Questo modello Mi piace davvero tanto Ve lo faccio vedere Indossato sul mio polso Anche qui Vestibilità Assolutamente totale Comodissimo Il bracciale Perché le maglie Sono molto piccole Si adatta benissimo A quella che è la forma Del nostro polso Molto molto interessante Questo orologio Qui davvero Continuiamo adesso Con un modello Molto apprezzato Della casa Come vedete Anche qui Dotazione Ricchissima Abbiamo il Mido De Compression Word Timer Sempre della famiglia Ocean Star Scritta Mido Applicata Al centro Del fantastico Quadrante Cassa Interamente lucida Mancano le spallette Proteggi Corona Sgancio rapido Sgancio rapido Sia del cinturino in gomma Il quadrante Può sembrare Un pochino affollato Ma credetemi È anche il bello Di questo orologio Disponibile sia in blu Che in colorazione nera Secondo me È un grandissimo pezzo Prettamente estivo Che dice sempre la sua Guardate anche qui Nel dettaglio Come ben realizzato Il quadrante Vista la fascia di prezzo Mi sento dire Che è stato fatto Un ottimo lavoro Per quello che mi riguarda Molto bello Anche di interessante Il gioco sfere Presente anche La scala Delle decompressioni Quindi veramente Un oggetto completo Dal gran Fore vintage Che a me personalmente Piace tantissimo Sin da quando È uscito Adesso ve lo faccio vedere Indossato Sul mio corso 18 e mezzo 19 Anche qui abbiamo Una cassa da 40 e mezzo Che veste Che è una bellezza Grande possibilità Di poter giocare Con i cinturini in gomma Con quelli in metallo Già in confezione Quindi insomma Molta versatilità E veramente Ce lo si può cucire addosso Come meglio si crede Gran bello orologio Molto molto bello Adesso però passiamo Qualcosa di più impegnativo Abbiamo la versione GMT Limitata Per il mercato italiano Anche qui Dotazione completa Bracciale Nato a parte Limitato in 250 Pezzi Un orologio Che ha un listino Di 1490 euro Sempre 20 bar Di impermeabilità Guardate anche Il numero della limite Sul fondello Molto ben lavorato Bracciale Fantastico Con una chiusura Anche qui Bella solida Grande Micro regolazione Veramente abbondante Per renderlo Il più confortevole Possibile Abbiamo però Un orologio Che è 44 mm Di diametro Per 13.4 Di spessore Abbiamo una serie limitata Di 250 pezzi Abbiamo una ghiera In ceramica Molto bello Il fondo E la ghiera Il tipo di numerazione Che hanno usato Indici ovviamente Applicati Ampie spallette Proteggi corona In questa cassa Satinata Con bisello lucido Di transizione Bracciale In acciaio Ovviamente Metà lucido Metà satinato Con maglia centrale Lucida Secondo me Molto bello Un bello orologione Ottima anche L'acromia Ve lo faccio vedere Meglio nel dettaglio Gli indici Sono tutti applicati Nel rio interno È presente La numerazione Delle 24 ore La ghiera esterna Come vi dicevo È una classica Ghiera diver Però con questo fonte Che mi piace davvero Tantissimo Sotto la scritta Ocean star Possiamo notare Anche la bandiera italiana Edizione limitata 250 pezzi Mercato italiano Veramente Un gran bello orologio Guardate anche la qualità Belle lavorazioni Ora ve lo faccio vedere Indossato sul mio polso 44 mm Che non spaventano E che secondo me Stanno veramente Che è un piacere Orologio molto interessante Che ho già avuto modo Di vedere Che mi ha colpito Sin da subito Ma adesso torniamo Con le conclusioni Grandissime Ed eccoci tornati Grandissimi Orologi secondo me Molto belli Adesso li mischiamo Come il gioco Delle tre carte Veramente Sono rimasto Impressionato In maniera molto positiva Da questi prodotti Perché sono Pier come ti dicevo Dal prezzo estremamente giusto Competitivo Molto competitivo Molto belli Ben richiame Heritage E poi come vedete Qua abbiamo già Quattro modelli Ma copri praticamente Tutte le categorie Di diver Che vuoi fare Perché vai Dalle ore del mondo A GMT Al grande classico Con fashion heritage Invece al più moderna Performante Comunque C'è veramente Anche con dimensioni Leggiamente diverse Dimensioni diverse Bracciali diversi Cinturini Nato Insomma Si può veramente Spaziare Adesso Scrivetemi nei commenti Quindi il Totomido Quale Avrò scelto Noi comunque Lo vediamo Tra un paio di giorni Perché vi farò L'unboxing Vi spiegherò Anche Le motivazioni Che mi hanno scelto Insomma Che mi hanno deciso Di far optare Per un modello Piuttosto che un altro Lo guarderemo In maniera Molto dettagliata Sotto a luce del sole Perché voglio farvi notare Anche il dettaglio Di questi orologi Perché magari Uno pensa Che a volte Il prezzo Sia piccolo E si è lasciato andare No no Invece anche i dettagli Costruttivi Stilisti Sono veramente Fatti Nel migliore dei modi Benissimo Assolutamente sì A me Questo piace molto Ed emoziona Perché quando vedo Che c'è il prezzo C'è la volontà E c'è soprattutto La cura Nel dettaglio Mi sento veramente Appagato Quindi Tantarovo Bravissima Mila Io ragazzi Vi saluto Se volete vedere Questi fantastici orologi Pier è qui apposta Ma lo trovate anche Sul gruppo Quindi se avete Qualsissi domanda Scrivete 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 So che siete ansiosi Di farvi vedere Ma Un velo di mistero Un alone di mistero Ancora per qualche giorno Ci vuole Poi ve lo mostro Con anche Pedrone Ma ve lo faccio vedere Anche adesso Come sempre È stato un piacere Grandissimi Ciao Ciao ragazzi Ciao a tutti Ragazzi Siamo veramente Su di giri Al massimo Veramente al massimo Va che volpetto Va che volpetto Giù 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 E quindi si accettano Scommesse Voilà Benissimo ragazzi Vediamo quale sarà La scelta Comunque sono tutti Bellissimi E questi Mido Veramente tanta Tanta roba Ciao ragazzi Un caro saluto Da me e da Pier Ciao a tutti